Cosa? Un altro? Non starai pensando di tirarti indietro, vero? No! Sto solo pensando a come sarà a bere con la cannuccia Vuoi essere il fondatore e presidente del mio fan club oppure no? Certamente, solo che... Non vorrai essere destituita per aver ostacolato i miei desideri, vero piccola? Io... che può succedere? Fuoco ai carri! Ok, ora sto pensando di tirarmi indietro Troppo tardi! So che dovevo lasciarti libera di prendere le tue decisioni Ma questo non significa che non possa salvarti ogni tanto Se avessi saputo che ti saresti tirata indietro Lo avrei fatto io l'acrobazia Bene! Allora non è un problema se quella corda si lega al tuo zoccolo Rivali per la vita! Non ci rinuncerai mai e poi mai! Mi dispiace essere entrata negli scartati Lightning Dust non era il pony che pensavo Non le importava che fossi spaventata o di mettermi in pericolo Pensava solo al suo spettacolo Anche se potevo farmi male Non è il tipo di pony per cui provare dell'ammirazione In realtà sono io quella che dovrebbe scusarsi Non mi sono comportata come qualcuno che si merita un fan club Sono stata fortunata ad avere un pony che mi ritiene la più forte Ma non c'è niente di forte nell'averti fatto pensare Che non sarai mai forte quanto me Forse dovremmo chiudere il fan club degli scartati Perché c'è un fan club a cui servirebbe qualche nuovo membro È il fan club di Rainbow Dash Benvenuti alla prima e inaugurale riunione del fan club Per il pony più fantastico e precedentemente sottovalutato Della città di Ponyville Io Rainbow Dash sono il fondatore del fan club Di Scutalù L'Imbavida Sai una cosa? Rainbow Dash aveva ragione Origliare al proprio fan club non è per niente inquietante Grazie Grazie Grazie